Alison Pickering, una giovane di 23 anni, sarebbe stata a pochi giorni dalla laurea alla Tarleton State University, ma un appuntamento in un ristorante che frequentava abitualmente si è trasformato in una tragedia. La ragazza è morta a causa di una reazione allergica fatale provocata da una modifica non segnalata a una ricetta. Alison era allergica alle arachidi sin dall'infanzia e aveva sempre scelto con attenzione i locali dove mangiare. La sera del dramma ha ordinato un piatto che considerava sicuro, ma la cucina aveva aggiunto della salsa di arachidi senza aggiornare il menu. Dopo i primi bocconi, Alison ha subito riconosciuto i sintomi e utilizzato l'epipen, riuscendo persino a raggiungere l'ambulanza e parlare con i paramedici. Tuttavia, poco dopo è svenuta e non si è più risvegliata. Il necrologio conferma che è morta per un grave shock anafilattico causato dall'ingestione di arachidi non dichiarate. I suoi genitori, devastati, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione per prevenire tragedie simili, chiedendo maggiore trasparenza e attenzione nei ristoranti riguardo agli allergeni nascosti. Sappiamo che questa battaglia salverà delle vite, ha dichiarato la madre di Alison, lanciando un appello affinché nessun'altra famiglia debba vivere un dramma simile. Grazie per la visione! Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato!